Riunione interrotta Consiglio Frank si stava lavorando accende la prima paglia bussano alla porta e Marco, il bagliocco nazionale mi fa è grave? e si presenta con un figlio oggetto di passione e di sacrificio ha cominciato la lavora adesso del padre il sacrificio come si chiama il modello? Romega, Speed Mars From the Moon to Mars che è Marte e non è il Mars che si mangia purtroppo è grave, io dico un po' metà l'orologio in mano, sventrato demolito, gli sono zoppate le rancette gli si è rotto il vetro ha snazzicato la cassa, tocca lucidarlo giusta preoccupazione viene dal secondo del suo male esce proprio da qua, per il colloquio mi è proprio uscito fuori, neanche dovuto venire è uscito da qua, difficoltà e problemi è grave guarda che casino, guarda che problema io ve lo guardo ancora sto cercando di capire è nuovo? è nuovo ah quindi tu parlavi di questo ah questo sul plexiglass che con un po' di sidol si leva e va bene ci dormi stanotte su sta cosa? però però farò fatica però pensi di poter tornare a lavorare tranquillo? uso uso orologio del computer è grave ma questo uso orologio del computer rovinato no? ma è nato ma è nato contro luce se li è qua questo questo a me pare una piuva caccola no l'ho provato non se ne va se no ok e adesso a voi il tempo che abbiamo messo mi ha messo secondo te sto male vai a fare fuori per andare a fare telefonale va ti starà puttanto perché ci voglio un sacco